Allora direttore ho risolto, dobbiamo chiudere solo il verbale e poi la reflutiva è stata recuperata sul traghetto per la Grecia e ci manderanno quindi dalla capitale qua? Eh sì, da là poi la portano qua perché non è che possiamo intervenire noi da... La capitale della Grecia? Atene Sì, dico... qual è la capitale della Grecia? Direttore, ho capito, ma qual è la capitale della Grecia? Atene Direttore, ho capito che è l'Atene, ma qual è la capitale della Grecia? Atene Tutti ce l'hanno, l'Italia è l'Atene, l'Irlanda è l'Atene, l'America è l'Atene, pur la Grecia è l'Atene Ma è Atene Atene, 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 basta, ciò per la pagina più fessa e non si può Atene Atene